Il rischio di Alcamo Strade groviera a Castellammare del Golfo, l'ordinanza shock del sindaco, niente interventi di manutenzione ma solo cartelli per indicare il pericolo. In questo modo il primo cittadino vuol tentare di evitare la raffica di disarcimento i danni ai veicoli e alle persone. Si va verso il completamento della toponomastica ad Alcamo Marina, gli uffici però sono senza operai e si paventa l'esternalizzazione del servizio. Esplode il caso in consiglio comunale. Al comune questa operazione costerebbe 70.000 euro. Appaltati i lavori per la camera iperbarica all'ospedale di Trapani, sarà attiva 24 ore su 24 tutto l'anno. Presto al via i lavori, la struttura sorgerà dove c'era la cappella del nosocomio. Quasi nessuno paga a partinico il canone idrico. L'AMAP pronta a tagliare il servizio ai morosi. Al via una verifica a tappeto. Se dopo i solleciti non avverranno i pagamenti, l'allaccio sarà tagliato. Informazione di Alpa 1 torna puntuale anche per questa nuova edizione. Un ben ritrovati a tutti i telespettatori. In apertura l'attenzione della Polizia Municipale di Trapani sul mercato ittico con un'operazione questa mattina insieme alla Guardia Costiere. È stato effettuato un controllo finalizzato a garantire ai consumatori l'igienicità dei prodotti, ai commercianti l'esercizio di una regolare concorrenza. 150 i chili di pesce di varia specie sequestrate a carico di ignoti oltre ad un carretto, una bilancia elettronica, un coltello e due grossi contenitori in plastica. I commercianti abusivi, presumibilmente quattro, alla vista degli agenti si sono dati alla fuga mescolandosi tra la gente che in quel momento affollava il mercato. Il pesce consegnato all'ASP per i necessari controlli sarà distrutto per l'impossibilità di tracciarne la provenienza. E come avete sentito dai titoli parliamo ancora della banca Don Rizzo di Alcamo perché è sempre più nella bufera. È giallo su una tentata candidatura alla presidenza di una docente universitaria, candidatura che è stata però respinta. Intanto subentrano sei nuovi soci, tutti palermitani. Dai nuovi vertici scompaiono gli alcamesi dopo l'indagine della Banca d'Italia su presunti passivi di 5 milioni di euro negli ultimi 5 anni. Ci sarebbe un giallo nella vicenda legata alla candidatura a presidente della Banca Don Rizzo di Alcamo. Intanto c'è un solo candidato. Si tratta di un professionista che per diversi anni ha avuto un ruolo nell'istituto fondato nel 1902 dal sacerdote Don Giuseppe Rizzo. Il candidato, per come abbiamo riferito in precedenti telegiornali, è Sergio Amenta, presidente del collegio del revisore di Conti sino a quattro anni fa. Si tratta dunque di una persona che conosce molto bene i meccanismi della Banca Don Rizzo, che sta attraversando uno dei periodi più difficili della sua secolare e gloriosa storia. Il giallo è legato ad una delle ultime assemblee del Consiglio in carica, dove sono stati ammessi in sé come soci, tra avvocati, consulenti, imprenditori agricoli eccetera, tutti palermitani. Costoro, alcuni giorni dopo, hanno presentato le candidature per un posto in Consiglio o nel collegio sindacale. Tutti debbono avere il gradimento dell'ICREA regionale, che è il vero regista e arbitro delle prossime lezioni. È giusto che occorra un curriculum, che oggi sono necessarie professionalità, ma in questo modo tutto sembra già apparecchiato per il prossimo 8 novembre. Pare che il Consiglio della Banca Don Rizzo non avrebbe, nella seduta dell'ammissione dei sei, esaminato forse per motivi di tempo, una settima richiesta di ammissione a socio, presentata da una docente di economia e finanza presso l'Università di Palermo, facoltà di ingegneria gestionale. La docente universitaria aveva intenzione di presentare la candidatura a presidente, cosa che non può fare non essendo socia. La docente resterà con le mani in mano o andrà a protestare alla Banca d'Italia. Sembrerebbe che i sei nuovi soci, appena arrivati, andrebbero a ricoprire cariche nel Consiglio e nel Collegio del Revisore di Conte. In pratica, se ciò si verificasse, nella Don Rizzo non ci sarebbero più alcamesi nell'attività gestionale. Intanto, il Consiglio in carica, eletto nel marzo dello scorso anno, perde pezzi. Infatti, si è indivesso l'imprenditore castellammarese Gregori Buongiorno, presidente provinciale degli industriali. Uno dei primi attempimenti che la nuova amministrazione dovrà fare, appena eletta, è quella di nominare i nuovi dirigenti e avviare il piano di risanamento per rilanciare la Banca d'Orrizzo. C'è comunque grande incertezza sulla riunione dell'Assemblea dei Soci della Banca d'Orrizzo di Alcamo, convocata per il prossimo 8 novembre, per eleggere l'intera governance. Se anche l'8 novembre tutto dovesse ancora essere rinviato, non si esclude che arrivi un commissario. Oggi l'importante è fare presto, perché la d'Orrizzo ha le risorse umane, il personale è pronto a sbracciarsi, per continuare a vivere e prosperare ancora per tantissimi anni, e scongiurare così possibili accorpamenti con la Banca di Credito Cooperativo di San Cataldo. Contromano, in autostrada un nuovantenne è stato raggiunto e fermato dalla Polizia Stradale all'altezza del chilometro 8 della Bretella, che conduce all'aeroporto di Birgi a Trapani. La Polstrada è intervenuta a seguito di diverse segnalazioni arrivate ieri nel primo pomeriggio al 113 dalla sala operativa sulla presenza di un'utilitaria che transitava lungo l'autostrada nella zona di Fulgatore, nel senso contrario a quello di Marcia. Un equipaggio del distaccamento di Marsala ha rintracciato la vettura con a bordo l'anziana e la moglie. L'uomo, apparso impaurito e preoccupato, è stato aiutato dai poliziotti che lo hanno accompagnato a casa, non prima però di aver provveduto ad elevare le sanzioni previste dal codice della strada, ossia il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi e la revoca della patente. L'anziano ha raccontato di ricordarsi di essere entrato in autostrada da Trapani e che stava dirigendosi verso Marsala, ma pare che si sia confuso e abbia sbagliato la direzione di marcia. E parliamo invece adesso delle strade groviere a Castellammare del Golfo e dell'ordinanza shock del sindaco. Niente interventi di manutenzione, ma solo cartelli per indicare il pericolo. In questo modo il primo cittadino vuol tentare di evitare la raffica di risarcimento e danni ai veicoli e alle persone. Il servizio. Attenzione, pericolo strada sconnessa a ridurre la velocità. Sono le indicazioni stradali nuove di Zecca che presto faranno la loro comparsa in decine e decine di strada a Castellammare del Golfo. E non stiamo scherzando. La decisione del sindaco Nicola Coppola, che ha emesso in tal senso una singolare ordinanza, la manovra è quanto mai chiara. Si vuole tentare di evitare ad automobilisti e centauri, rimasti vittime di incidenti e danni ai propri veicoli, rimborsi a raffica come è accaduto sino ad oggi. Il modo certamente non appare dei più ortodossi e sembra ricalcare quanto fatto da alcuni colleghi sindaci, seppur con una formula diversa, mentre alcuni primi cittadini hanno imposto limiti di velocità assurdi anche sino ad appena 10 km orari. In alcuni casi il sindaco di Castellammare non impone alcun limite, ma avverte del pericolo e invita quindi chi transita nelle strade dissestate a ridurre la velocità. Quanto questo espediente possa evitare al comune castellammarese la richiesta di risarcimento di danni a veicoli e persone, ovviamente non è dato sapersi. Oggi il tentativo appare quanto meno singolare. Nell'ordinanza il primo cittadino castellammarese si giustifica sostenendo che soldi in cassa non ce ne sono. E allora al centauro, pedone o automobilista viene chiesto di andare a passo di lumaca nelle strade gruviera del paese. E allora la domanda sorge quasi spontanea. Ma le tasse per cosa si pagano? Come ammesso nella stessa ordinanza da Coppola, da numerosi anni non vengono effettuati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nelle strade comunali per mancanza di risorse finanziari. Inoltre, come certificato sempre dal sindaco, gran parte del tessuto viario presenta lo sgratolamento dell'asfalto con presenza di buche più o meno profonde. Un vero e proprio pericolo che però il comune vuol tentare di aggirare, non come qualsiasi cittadino si aspetterebbe, cioè effettuando degli interventi di manutenzione per la sistemazione dell'asfalto, ma semplicemente avvertendo l'utente della strada che c'è un pericolo incombente e che quindi si deve procedere con cautela. La condizione di alcune arterie è davvero pietose ai limiti della sopportazione a Castellammare. Infatti alcune strade, come in zona fraginesi, non consentono nemmeno il transito né degli autoveicoli, né degli scuolabus, né tantomeno dei mezzi di linea che hanno sospeso per questi motivi il servizio. Morale della favola, tutti i progetti redatti dagli uffici del comune per la manutenzione delle strade sono congelati in quanto privi di copertura finanziaria. Le attuali finanze del comune, si giustifica Coppola, ancora non consentono di effettuare interventi di manutenzione per mettere in sicurezza tutta la rete viaria cittadina, ma gli unici interventi urgenti effettuati si limitano alla sistemazione delle buche più pericolose. Questo stato di cose ha fatto aumentare vertiginosamente gli incidenti e le richieste di risarcimento danni al municipio. Il sindaco ha aguzzato l'incegno e sta provvedendo ad apporre apposita segnaletica da collocare nei punti nevralgici del territorio in modo da informare i conducenti dei veicoli, dei pericoli e nel contempo invitarli a ridurre la velocità adeguandola al tipo di strada dissestata. Con una missiva inviata oggi al commissario straordinario, al responsabile dell'ufficio anticorruzione del comune di Alcamo, il consigliere comunale Alessandro Calvaruso chiede che la sentenza della Corte di Cassazione del 6 ottobre scorso che ha ribadito il principio del delitto di omissione di atti d'ufficio venga applicata ai lavori del consiglio comunale nel caso di presentazione di interrogazioni. Nella sentenza si afferma che un cittadino titolare di una richiesta d'atti ha il dovere, ha il diritto di avere una risposta entro i 30 giorni o quantomeno conoscere le ragioni del ritardo sempre entro questi termini. Calvaruso punta il dito contro comportamenti riguardosi sia verso il privato cittadino che dei consiglieri comunali quali sarebbero costretti a subire, si legge in una nota, le inerzie degli uffici che per rispondere alle interrogazioni impiegano anche sei mesi. Hanno preso il via a Campobello di Mazzari i lavori di scerbatura del territorio comunale predisposti dall'amministrazione guidata dal sindaco Castiglione per ripulire strade, aiuole e marciapiedi. Il primo intervento ha interessato la circonvallazione Nord ripulita da una squadra composta da tre operai comunali guidati dall'assessore al verde pubblico Vito Ferreri. I lavori proseguiranno nei prossimi giorni e interesseranno dapprima la villa comunale poi le strade del centro urbano e infine le zone periferiche siano a garantire una omogenea pulizia dell'intero territorio cittadino. Si va verso il completamento della toponomastica ad Alcamo Marina gli uffici però sono senza operai e si paventa l'esternalizzazione del servizio esplode il caso in consiglio comunale al comune questa operazione costerebbe ben 70.000 euro vediamo Si parla tanto di risparmio al comune di Alcamo ma poi la direzione non sembra per nulla questa per un motivo o per un altro soprattutto il tormentone è quello di internalizzare i servizi ma l'obiettivo appare sempre più distante e adesso spunta fuori che non solo non si riesce a gestire in house i servizi storicamente da sempre in appalto ma addirittura se ne vogliono affidare degli altri è il caso delle strisce blu su cui c'è una ben precisa direttiva da parte del commisterio straordinario del comune Giovanni Arnone perché con il personale a disposizione del comando di polizia municipale non si è in grado di gestire il servizio adesso spunta fuori lo stesso identico scenario per quanto concerne il completamento della toponomastica di Alcamo Marina in questi giorni gli uffici dei servizi demografici hanno scritto alla prima commissione consigliare proponendo di esternalizzare per l'appunto il servizio di completamento della toponomastica il problema è sempre lo stesso non ci sarebbe personale di una determinata categoria che possa scendere in strada e materialmente installi pali e targhe nelle varie vie che ancora aspettano di essere intitolate un giochetto di non poco conto per il comune di Alcamo questa operazione infatti costerebbe qualcosa come 70.000 euro alle casse municipali che certamente in questo momento non stanno attraversando un periodo molto florido a sollevare alla questione il consigliere Benedetto Vesco che si dice preoccupato per queste ipotesi di esternalizzare tanto che ha sollecitato il commissario affinché eviti questa soluzione prospettata dagli uffici è un lavoro che può essere svolto non svolto, continuato dal personale comunale qualora il settore servizi democratici venga implementato di unità e di risorse umane dando uno sguardo al sito internet dell'associazione Alcamomarina.it che raccoglie tutta la taponomastica della zona costiera si evince che in totale sono 149 le strade lungo la vasta zona periferica alcamese di queste 25 ancora hanno la vecchia denominazione con numeri e lettere al commissario viene quindi sollecitata la massima attenzione nella formulazione del PEG il piano esecutivo di gestione attraverso la cui predisposizione si potrebbe prevedere un'implementazione delle risorse umane a disposizione degli uffici del servizio demografico ma potrebbe prospettarsi lo stesso scenario che è stato visto e rivisto ad Alcamo come per l'internalizzazione della pulizia delle spiagge dove il personale da reclutare ha presentato una serie di certificati medici di esonera raffica in pratica nessuno vuole scendere in strada e si preferisce una bella sedia di una scrivania piuttosto che una pala ed un uniforme